Io ho una domanda da farti Carolina che ha a che fare con molti messaggi che abbiamo ricevuto questa mattina. Innanzitutto c'è la solidarietà di gran parte degli ascoltatori e l'apprezzamento per la battaglia che tu stai facendo. Ma qualcuno ha scritto via sms, Dagli Rossi, la morte di Davide è sulla coscienza della giustizia italiana. Ti senti di affermarla anche tu una cosa del genere? Assolutamente sì, perché il 6 marzo 2013, appunto, quando Davide è morto, si è partiti da un assunto da parte della Procura di Siena. Ovvero quest'uomo si è suicidato. Di conseguenza tutte le indagini sono state fatte solamente in questa direzione. Quindi non sono state acquisite le telecamere interne della banca, non sono state acquisite le celle telefoniche. Ci sono ancora oggi un sacco di incongruenze alle quali non è mai stata data risposta. Quindi molti degli elementi purtroppo con il tempo sono andati per tutti. Io sto facendo tutto questo anche perché spero veramente che qualcuno si decida a parlare, qualcuno che sa.